Sara, noi vaccinati perché dobbiamo seguire le regole non vaccinati. Ora io ho tanto avvia, guarda perché faccio un salto all'ospedale a vedere la per... Guarda Sara, allora fammi tu, esci, fai libera, fai come ti fai, stai tranquilla te, te vai libera, non ti preoccupare, fai libera. Da Veronichina a Sara. Non è la prima volta che capita e ormai il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, è un idolo social. Durante una delle sue frequenti dirette Facebook sul Covid, durante le quali dialoga con i cittadini, è capitata ancora una volta una domanda non particolarmente arguta che ha fatto sbottare il primo cittadino. La malcapitata è tale Sara che chiede perché debba seguire le regole nonostante sia vaccinata. La risposta di Biffoni è tutta da gustare e così Sara è diventata la nuova Veronichina. Ragazzi, io Sara, ma ti sembrano, ma ti sembrano, io, dimmelo te, se si sembrano una... Spero io, spero tutti ha scherzato, spero sia una burla, perché te vuoi fare come ti pare. Cioè nel senso, nonostante ci sia fuori un delirio, fuori la ragazza, Dio, te ti ha fatto il vaccino, allora sai che può, ma che me ne frega. Ma io levo la mascherina, poi a giro, sputo un paccio alla gente, gli respiro sui nasi, ma come deve funzionare? Io, no, guarda, 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 ci ho fatto tardi ieri notte e stamattina ho dormito un po', però guarda, io una roba, sì, l'ho da risentire, guarda, è meglio se sto zitto. Grazie.